Il Mediterraneo è la culla della civiltà. La cultura occidentale nasce in Grecia e si espande attraverso la magna Grecia in un legame profondo e indissolubile che fa della calambria l'enla dei profondi. Ricordare, ricordarci di questo è essenziale se vogliamo che la storia dell'umanità, l'umanesimo e il rinascimento, ma anche il futuro verso cui andiamo incontro, sia la strada maestra affinché non vada disperso un patrimonio straordinario. Ne è convinto l'intellettuale greco, Michalis Karanambidis, che ne ha parlato nel corso di un incontro tenutosi nelle sale Scev di Palazzo Gagliardi a Vibo Valencia. Un confronto intenso che ha coinvolto la sala gremita di persone affascinate del modo di esporre queste idee che riscattano un territorio a torto considerato periferia. Michalis Karanambidis ha ridato vigore e profondità da una storia millenaria, una civiltà che è la culla dell'Occidente e che ha il suo domicidio in queste due terre connesse da un legame profondo, ancestrale, primordiale. E proprio questo rende la calabria l'ella de profonda. Non a caso Karanambidis si definisce un italiota greco, definizione di straordinario impatto, che ha convinto i presenti ravvivando un orgoglio di appartenenza da tempo sopito. A confermare concretamente questo regame è l'intervento dello studioso ed artista Francesco Braccio, che con la sua lira ha concluso la serata con canti della più antica tradizione. La presenza di Michalis Karanambidis la si deve all'impegno dell'Associazione Monte Sussiderio di Parcheria, grazie alla quale è stato possibile farlo giungere dalla Grecia a Vibo Valencia. Per lui diciamo che è un ritorno qui a Vibo in modo particolare, in quanto voleva neanche toccare con mano, come di fatto ha detto, è andato al museo, qui al castello, e quindi è rimasto molto, molto attratto dalle bellezze, in modo particolare da quella lamina d'oro. Tant'è vero che ha detto fammi una fotografia perché la voglio portare con me, perché è molto espressiva. Uno degli aspetti importanti dal punto di vista culturale che porta avanti è quello di unire Calabria e Grecia in quella che è l'unità culturale. Sì, di fatti, come ha detto benissimo lui, qui si definisce un'italiota greco, significa che appunto la magna Grecia non deve perdere le sue radici, perché dalla Grecia, che ha trasportato la cultura appunto in Calabria, e quindi la Calabria deve apprezzare quello che significa le sue radici, le sue origini, e non dimenticarle. Grazie.